Per l'anno 2024 il Consiglio Nazionale Ingegneri, che è la massima istituzione di rappresentanza della categoria degli ingegneri, ha affidato l'organizzazione del Congresso Nazionale all'Ordine degli Ingegneri delle province di Siena e Grosseto. E quindi il prossimo ottobre, per l'esattezza dal 1 ottobre 2024 al 4 ottobre 2024, ci sarà il congresso organizzato dagli ingegneri di Siena e dagli ingegneri di Grosseto con inizio il 1 ottobre a Grosseto con l'inaugurale Cena dei Presidenti e a seguire l'attività congressuale nella città di Siena. Noi saremo incaricati in maniera proprio specifica di quelle che sono le attività sportive, ricreative degli ingegneri, che anche gli ingegneri si avvalgono di questo tipo di attività che serve a migliorare l'unione all'interno della categoria. Si partirà con la prima settimana di giugno, con gli eventi sportivi, chiaramente quelli che vedranno, normalmente vedono impegnate 32 società, 32 ordini sui 106, quindi su tutto il territorio nazionale ben mille persone che andranno ad interessare l'intera nostra provincia e che quindi potranno beneficiare anche della provincia con termine, quella di Siena, sull'attività del calcio. Oltre ad altre attività che sono facilmente sviluppabili nel nostro territorio, come il padel, come la stessa vela, come le attività, quelle più tradizionali della corsa campestre e del ciclismo.